Maestri d'eccezione, grandi musicisti e un programma per tutti i gusti. Si alza il sipario a Fano sulla nuova edizione di Sinfonica 3.0, la rassegna organizzata dalla Fondazione Teatro della Fortuna e dall'Orchestra Sinfonica Rossini. Tre gli appuntamenti già in scaletta dal 1 gennaio al prossimo 8 maggio. Si parte dal concerto di Capodanno, ormai appuntamento tradizionale per la città di Fano, alle ore 17 in questo stupendo teatro. Avremo come direttore, il nostro direttore principale Daniele Agiman, e come solista un violoncellista straordinario, che è artista residente ormai nella nostra città, è Giovanni Gnocchi, che è sicuramente uno dei violoncellisti più importanti del momento, sta girando il mondo col suo violoncello, anche durante il lockdown i suoi streaming hanno avuto un grandissimo successo, quindi siamo orgogliosissimi di averlo. I contenuti sono concerto per violoncello di Shostakovich e lo schiaccianoci di Tchaikovsky, per cui musica anche molto conosciuta e ideale per una giornata di festa come Capodanno. Si passa poi all'11 febbraio, in cui avremo come ospite un direttore d'orchestra molto noto, perché è Beatrice Venezzi, e con lei faremo un programma dedicato alle sinfonie. Sinfonie d'opera e sinfonie, sinfonia, diciamo così, per cui ci saranno due sinfonie di Rossini e la celeberrima settima sinfonia di Beethoven. Termineremo questo piccolo segmento concertistico, poi ce ne saranno anche altri, l'8 maggio con il concerto dei vincitori della prima edizione del concorso Antonio Bigonzi. Il nostro Antonio Bigonzi, concittadino straordinario violinista, affondato con me l'orchestra Rossini, a lui abbiamo dedicato questa iniziativa. In un periodo pandemico abbiamo deciso di fare un concerto invitando i vincitori e sarà presente però nella nostra città, e questo sarà un altro vanto per questa cittadina, Ilia Gruber, che è il presidente di giuria, ed è uno di quelli che passerà alla storia del violino. Pensate che solamente dal 75 al 78 ha vinto rispettivamente ad Helsinki il Sibelius, a Genova il Paganini e a Mosca il Tchaikovsky, per cui ha fatto il triplete e pochi artisti nella storia sono riusciti a fare questo. Quindi lui sarà qui come presidente di giuria ad ascoltare il concerto, ma speriamo anche che ci delizio un po' con le sue note. Il futuro della musica però sono inevitabilmente loro, i più giovani, a cui è dedicata la grande sorpresa di questa nuova stagione. La grande novità quest'anno è una mattina per le scuole. Abbiamo deciso che assieme al presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, Cati Amati, che ringrazio tra l'altro perché continua a sostenere questa iniziativa, l'iniziativa dell'Orchestra Rossini, abbiamo deciso di aprire anche la sinfonica alle scuole, per cui sarà la novità assoluta di quest'anno, e l'11 febbraio al mattino Beatrice Venezzi farà una sorta di generale aperta per le scuole e quindi si inizia anche questo percorso che già in altri generi in questo teatro è stato attivato. Iniziamo anche con la sinfonica. I biglietti sono in vendita già da sabato scorso. L'attesa è tanta e l'obiettivo ambizioso. Alietare il pubblico attraverso la grande musica, ma anche riportare un po' di luce tra le tante ombre dovute alla pandemia. È un appuntamento ormai importante che i cittadini aspettano e noi lo facciamo con questo spirito che sapete di combattenti perché andiamo avanti. Abbiamo avuto tante richieste e questo ci fa piacere. Come sapete il rapporto con l'Orchestra Sinfonica, che è l'orchestra principale del Teatro della Fortuna, va avanti da anni, è consolidato e produce veramente progetti di grande qualità. Anche quest'anno speriamo di poter accontentare tutti e soprattutto venite a teatro. Il teatro è un luogo sicuro. Siamo tutti vaccinati anche col Super Green Pass. Gli artisti sono tutti tamponati. È un luogo sicuro e si provano tante emozioni. Il criterio con cui abbiamo scelto i programmi è scegliere semplicemente musica bella, perché vorremmo essere dei dispenser di emozioni e bellezza. Penso che noi artisti in un momento così difficile abbiamo un compito. Stiamo vivendo forse una realtà un po' in bianco e nero. Diciamo che a noi il compito è di colorare un po' questa realtà e quindi abbiamo programmato semplicemente per il godimento dello spettatore. Quindi io sono convinto che chi verrà ad ascoltare in questo bellissimo teatro con questa stupenda acustica, questi concerti, avrà dei momenti di gioia assoluta.